questa parola è centrata sul perdono noi dobbiamo confrontarci con questa parola che abbiamo sentito tante volte perdono, perdonare è una parola molto impegnativa se tradotta in vita reale è impegnativa applicarla alla nostra vita è difficilissimo noi siamo molto indulgenti con noi stessi a volte ci sono invece persone che sono intransigenti anche con se stesse e si autodistruggono ma normalmente le persone si giustificano o ci giustifichiamo o ci perdoniamo molto facilmente generalmente funziona così sebbene profondamente è diverso ci perdoniamo a livello superficiale ma per perdonare tutto parte dal perdonarsi se parliamo di perdono parliamo di come noi ci perdoniamo e se ci perdoniamo per passare alla fase del perdonare gli altri dobbiamo prima di tutto vedere se perdoniamo noi stessi perché vi assicuro che se noi non ci perdoniamo profondamente non superficialmente con la testa così come vi dicevo che ci giustifichiamo no, no il perdonarsi significa entrare nel più profondo di noi stessi nel più profondo dei nostri pensieri per perdonare bisogna perdonarsi perdonarsi implica l'entrare nelle nostre profondità che noi inconsciamente non ne siamo forse neanche consapevoli non riusciamo a perdonarci alimentando dei conflitti che stanno dentro di noi che si fanno sentire sono dei nodi che se non vengono sciolti ritornano nella nostra vita e non ci fanno perdonare gli altri ma per perdonarsi non pensate che sia tanto facile per perdonarsi occorre una luce per poter accettare quelle zone buie del nostro essere come le persone possono perdonare se stesse ma se non ci fosse Gesù che paga i nostri debiti che ci fa sentire amati anche nelle realtà in cui noi ci siamo trovati dispiazzati anche nella realtà in cui noi ci siamo trovati nell'errore che abbiamo sbagliato perché dice San Giovanni che dice di non avere peccato fa Dio bugiato siamo peccatori e sbagliamo ci viene dato il perdono sacramentale ma il perdono di Dio è lì disponibile è presente sempre perché Gesù è morto per i nostri debiti per i nostri peccati ed è risorto per il perdonarci per la nostra giustificazione i nostri peccati li ha pagati Lui sulla croce siamo perdonati ma il discorso non è il perdono di Dio perché esiste c'è è lì basta guardare Gesù il discorso è se questo perdono lo facciamo entrare nelle profondità del nostro cuore e della nostra mente tante volte ci sono dei conflitti così forti dentro di noi che non riusciamo a risolvere perché? perché non ci siamo profondamente perdonati e quindi non riusciamo neanche a perdonare gli altri guardare Gesù è la porta che si apre alla nostra salvezza una salvezza non solo dell'anima ma anche del corpo della mente della pace che deve regnare in noi dove tu entri di nuovo in armonia con te stesso e se tu hai accettato questo perdono gratuito di Dio il padrone che condona il debito se tu hai accettato questo perdono di Dio come non perdonerai gli altri? in questo brano quel signore non perdona assolutamente il suo debitore riceve il suo perdono in un modo furbesco per poi non darlo a nessuno in fondo lui questo perdono non può né riceverlo e non darlo e infatti è finito in prigione una prigione metaforica che ti incabbia sempre nelle tue problematiche nelle tue sofferenze il signore qui ci mostra come non si può perdonare senza perdonarsi già il perdonarsi è una liberazione perché tu guardi Gesù dice dalle sue piaghe voi siete stati guariti allora vedi che le ferite che stanno nel tuo cuore le tue piaghe di che li vedi nel tuo cuore di che li vedi comparire nel cuore di Gesù dici un momento ma questa non è la piaga mia che c'entra che è comparsa nel cuore di Gesù non è la piaga mia perché il profeta dice dalle sue piaghe siete stati guariti e allora se le nostre piaghe attraverso questo perdono incondizionato di Dio appaiono nel suo corpo fino al punto da farlo morire per i peccati e le ferite dell'umanità l'amore di Dio non può morire risorce queste piaghe che sono state trasferite nel cuore di Gesù scompaiono nella resurrezione ma quelle erano le nostre piaghe sono sparite le nostre piaghe nella luce di Dio nell'amore infinito di Dio nel perdono infinito di Dio quelle piaghe non ci sono più perché Gesù è risorto e noi siamo perdonati questo perdono profondo che senti dentro di te sono un peccatore Signore tu mi hai perdonato di fronte a una persona che pecca contro di te non avere perdono misericordia compassione e questo ti preserva da una negatività e da un circuito malvagio che fa stare male le persone le persone che giudicano le persone che non perdonano stanno male stiamo male tutte le volte che abbiamo fatto questa esperienza stiamo male è così qualcuno può dire sì d'accordo va bene io perdono ma guarda che anche se perdono non è che cambiano le cose perché l'altro è sempre lo stesso ha sempre quel caratteraccio mi tratta sempre male e io lo giudico le cose che mi ha fatto se te le raccontassi come posso perdonare non è che cambia il carattere dell'altro sempre lo stesso il cuore dell'altro è sempre lo stesso forse è un cuore che si è accanito contro di te per le problematiche che c'ha vai a entrare nell'abisso delle altre persone è un abisso ok va bene quello che sia quello che sia però io sto parlando di te di avere un cuore di perdono perché se entri in questo ciclo maligno non te ne esci più perché tu giudichi l'altro continua ad agire così si crea un circolo vizioso dove tu non puoi perdonare l'altro non si sente perdonato le persone che non ne capiscono niente di perdono anche se perdono loro non lo capiscono tuttavia tu perdona lo stesso perdona nel tuo cuore la mattina quando ti alzo non devi pensare a come ti ha trattato a quello che ha fatto e quindi la rabbia che ti viene su così naturalmente ti sente arrabbiato perché perché non c'è stato quel perdono quel perdono dico nel profondo di quella luce che ti ha abbracciato ti ha perdonato senza condizione e allora il signore dice tu perdona tu ama dice ma sai quello mi pianta i chiodi tu ama tu ama quello sarà responsabile delle sue azioni ma può darsi anche che il tuo perdono lo aiuti lo converta può darsi di sì può darsi di no non lo so ma tu ama ma tu perdona perdona di quel perdono che tu hai ricevuto da Gesù e qui c'è il discorso di riconoscersi peccatori non è facile riconoscere i propri peccati quelli degli altri è molto facile a vederli è una facilità enorme ma i nostri peccati è molto molto più difficile perdonami io vorrei amare ma non ce la faccio aiutami tu signora abbia pietà di me Gesù che sono un peccatore e il Signore ci dà la forza la grazia ci fa di nuovo entrare nella pace dell'anima io ti perdono e allora tu dici signore ok grazie 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 mi hai dato la pace e quella persona che mi tratta male che faccio la perdono la perdono signore ma continuerà a trattarmi male signore io la perdono a prescindere se quella accetta o non accetta ma tu perdona nel tuo cuore non nutrire alcun sentimento negativo nei suoi confronti perché se nel tuo cuore non entra la pace e il perdono la paghi ma non perché Dio te la fa pagare ma perché il non perdonare è una sofferenza con il fatto che non perdoni perché dentro di te nel tuo cuore c'è tanta rabbia tanto dolore tanta ribellione che questo è già un un pagarla cara è un pagarla cara la stai pagando tu ma come dici si è comportato lui male e la pago io sì se nel tuo cuore non c'è pace tu non stai bene non dormi tranquillo la mattina non ti alzi contenta perché subito ti viene quel pensiero lì c'è una sapienza profonda lo so può darsi che l'altro non gliene frega niente se tu perdoni o non perdoni ci sono persone che sono completamente fuori da queste logiche spirituali chiamiamole così sono fuori ci sono persone che sono talmente arroccate nel loro orgoglio che il cattivo sei tu la cattiva sei tu e loro sono sempre nel giusto che devo perdonare perdona non ti preoccupare tu perdona il signore dice perdona loro perché non sanno quello che fanno perdona non sono consapevole forse non è neanche colpa loro non lo sappiamo se vogliamo crescere spiritualmente dobbiamo percorrere la via del perdono guardate che non è facile perdonare Gesù dice a proposito del perdono di amare perfino i nostri nemici amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono a fronte a un nemico che sta nella tua vita che può essere chiunque il nemico è quello che ti rende la vita amara questo è il tuo nemico che può essere anche un familiare tranquillamente può essere un collega di lavoro la vicina di casa chiunque allora che fare la mattina quando hai la tentazione del giudizio prega per quella persona dice ma io non me la sento non ce la faccio e tu lo so che non ce la fai anche Dio lo sa che non ce la fai a perdonare e che colpa ce n'hai tu però puoi fare un atto di volontà quello si e guardate che l'atto di volontà agli occhi di Dio è importante quando i pastori gli angeli e pace agli uomini di buona volontà e quindi se lo dicono gli angeli pace agli uomini di buona volontà significa che la volontà non dà conta a volte vedete c'è una bella differenza fra la volontà e i sentimenti perché tu con la tua volontà dici sì signore ok di fronte al nemico io prego prego per lui signore dagli benedizione dagli tutto il bene del mondo salute nell'anima e nel corpo io lo benedico signore lo benedico lo benedico i sentimenti a volte non si appattano con la volontà e invece la tua emotività si ribella non sente amore non lo puoi sentire all'amore perché ti ha fatto tanta di quelle male parti che tu dentro di te sente una rebellione altro che altro che amore altro che amore per arrivare all'amore al nemico bisogna raggiungere alte 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 vette spirituali che il signore ce li farà raggiungere quanto vuole lui per il momento accontentati della volontà di un atto di volontà già se tu stai pregando per quella già stai facendo un atto di amore stai condonando al tuo nemico ma condonando non significa che quello può fare quello che vuole è chiaro che devi stare nella verità con l'altro Gesù amava i nemici però la verità ce la diceva però ha usato le cordicelle ma ha detto ai farisei razza di libere sepolchi in bianca voglio dire attenzione a scambiare il cristiano con un babbeo il cristiano non è un babbeo un cristiano è colui che non conserva che non ha odio che non reagisce al male col male ma quando tu devi dire la verità ma quando tu devi operare per la giustizia anche in un modo forte ma lo fai lo fai guarda io ti sto dicendo questo questa verità che ti fa male perché ti voglio bene non perché ti voglio male reputi che quella persona possa recepire se no niente la prendi come realtà prendi la tua croce e segui Gesù sempre diciamo con questa pace che il Signore ti dà però io sono nella verità il discorso del perdono bisognava un pochettino specificarlo la tua croce è che è